Salve a tutti, bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema questo problema riguardo all'errore che non riesci ad accedere così a Epic Games, al tuo account Epic Games quindi ti esce così questo errore riguardo all'errore delle cretenziali, errore che i server di Epic Games non funzionano quindi se è un problema di Epic Games allora stai certo che è un errore temporaneo ma se è un tuo problema allora qua dobbiamo fare alcune cose quindi in questo caso andiamo direttamente sul nostro esegui quindi andiamo così a scrivere esegui qua sopra vai a scrivere per cento, fai shift più 5 per fare la percentuale qua per cento, app data per cento fai ok, entriamo così nella cartella app data, vai su local, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Epic Games la cartella di Epic Games launcher, andiamo su app data, vediamo se c'è anche la cartella su roaming easy anti cheat, no, app data, local, e non c'è più niente una volta fatto chiudiamo un attimo qua e dirigiamoci subito sulla connessione, quindi impostazioni di rete internet tasto destro sul tuo logo qua sulla tua connessione internet, impostazioni di rete e internet, impostazioni di rete avanzate vai sulla tua rete che usi, io uso un cavo ethernet, quindi non ho mai problemi di connessione o interruzioni non ce le ho mai queste interruzioni, vado su ethernet, vado su altre opzioni scheda e faccio modifiche vado su protocollo internet versione 4, utilizza i seguenti dirizi server DNS come puoi vedere questi sono alcuni server DNS che puoi utilizzare sulla tua rete quindi mi raccomando sul TCP IPv4 e andiamo così a inserire provare così uno di questi tre server DNS, puoi provare quello di Google Cloudflare oppure AproDNS facciamo prima quello di Google, quindi facciamo 8 8 4 4 e qua sotto vai a scrivere 8 8 8 8 se non dovesse funzionare puoi provare gli altri server e fai ok e fai ok se non dovesse funzionare puoi semplicemente ripristinare la tua rete, quindi impostazioni di rete avanzate ripristino della rete, ripristino della rete, fai ripristine così la tua rete metti di nuovo la password della tua connessione Wi-Fi però prima devi riavviare il computer una volta fatto il ripristino quindi il PC verrà riavviato e chiudiamo un attimo qua una volta fatto vai direttamente su servizi scendiamo fino a giù fino a trovare così il servizio di Epic Games Epic Online Service se questo servizio è spento come puoi vedere è spento tipo di avvio automatico è spento perché tengo anche Epic Games chiuso quindi se provo ad avviarlo questo servizio si avvia però posso direttamente fare tipo di avvio automatico e faccio avvia tipo di avvio automatico e faccio ok una volta fatto non mi resta che entrare su Epic Games faccio Epic Games Launcher se non dovesse funzionare puoi semplicemente reinstallare Epic Games e basta se è un errore di Epic Games ai propri server allora è un errore temporaneo che bisogna aspettare quindi facciamo accedi io faccio accedi con l'account Google ed eccoci qua sul nostro account di Epic Games quindi l'account a me funziona sono entrato così nel mio account e funziona perfettamente per altri problemi ancora commenta sotto al video fammelo sapere se ha funzionato oppure no e come ho detto se non dovesse proprio funzionare con questi metodi prova a reinstallare il tuo Epic Games se no aspetta che il servizio di Epic Games risolva così quei servizi e puoi accedere quindi non ti resta che aspettare quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao